cari amici di live channel benvenuti a questa serie di presentazioni dal titolo l'ultimo messaggio quello che vogliamo fare insieme in questa serie di presentazioni è esplorare l'ultimo messaggio di misericordia di salvezza e di avvertimento per il mondo intero prima del ritorno di gesù gesù ha affidato al suo popolo questo messaggio da predicare prima del suo ritorno è l'ultimo messaggio che deve andare in tutto il mondo per annunciare la salvezza e anche il giudizio imminente di dio con la venuta di gesù cristo il titolo di questa prima puntata è la fine del mondo il risultato dell'ultimo messaggio e in questa presentazione vedremo quale condizione si deve verificare perché gesù possa ritornare su questa terra c'è qualcosa che ritarda il ritorno di gesù lo scopriremo insieme nello studio delle sacre scritture e in particolare del libro dell'apocalisse però prima di aprire le pagine della bibbia voglio invitarvi a chinare il capo insieme a me per chiedere la benedizione di dio preghiamo insieme caro padre io conosco l'importanza che tu hai dato a questo messaggio l'ultimo messaggio che deve andare in tutto il mondo un messaggio che tu ci hai affidato e affidato al tuo popolo perché venga proclamato con forza e con convinzione e nella potenza del tuo spirito vogliamo esplorarlo insieme vogliamo studiarlo in profondità vogliamo capirlo vogliamo comprenderne la bellezza e per la tua grazia vorremmo anche poter essere testimoni credibili di questo messaggio vorremmo poterlo incarnare nelle nostre vite rimani con noi con il tuo spirito e rimani con le mie labbra e con le orecchie di tutti noi che ascoltiamo quello che lo spirito ha da dire alle chiese ti ringraziamo per ciò che vorrei fare non per i miei meriti ma ti chiedo tutto questo nei meriti di gesù cristo nostro signore e salvatore a lui sia la gloria ora e per sempre amen in matteo capitolo 24 troviamo il sermone profetico di gesù in questo discorso gesù ci ha dato quei segni che avrebbero preannunciato il suo ritorno nel guardarci intorno a noi nel mondo possiamo vedere l'adempimento di questi segni e quindi capire che stiamo vivendo veramente negli ultimi tempi della storia umana stiamo veramente vivendo alla fine dei tempi perché sappiamo che i segni che gesù ha dato in matteo 24 si stanno adempiendo su scala globale e questi segni gesù ce li ha dati per capire qua perché il suo popolo potesse capire quando sarebbe stato vicino il suo ritorno anzi gesù disse che quando avremmo visto tutte queste cose accadere avremmo potuto sapere che egli era alle porte però prima che gesù ritorni deve adempiersi un altro segno in mezzo a tutti questi segni che sono sicuramente negativi sono disastri sono sciagure e tragedie perché gesù parlò di guerre di rumori di guerra gesù parlò di segni nel mondo naturale carestie terremoti pestilenze disastri naturali di segni nel mondo sociale l'erodersi dei valori e della moralità nella società gesù parlò di tutte queste cose del male che sarebbe dilagato alla fine dei tempi ma in mezzo a questi segni negativi troviamo almeno un segno positivo e vedete tutti gli altri segni dei tempi succedono e sono cose che vanno bene al di sopra del nostro controllo ma c'è un segno che è l'unico positivo che è più vicino a noi e gesù disse che l'evangelo sarebbe stato predicato in tutto il mondo prima della fine del mondo quindi questo è un segno che ci riguarda da vicino noi abbiamo qualcosa da fare per far adempiere anche questo segno dei tempi quindi in mezzo a tutti gli altri sui quali non abbiamo alcun controllo c'è anche questo segno l'evangelo che deve essere predicato in tutto il mondo andiamo a leggere insieme in matteo capitolo 24 il versetto 14 gesù disse e questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine gesù sembrò qui parlare di un evangelo specifico perché disse e questo evangelo del regno sarà predicato e ci sono due caratteristiche riguardo a questo evangelo due peculiarità il primo punto che gesù sottolinea è che questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo quindi numero uno questo messaggio deve andare in tutto il mondo che cosa succederà quando questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo gesù disse e allora verrà la fine in altre parole la fine del mondo verrà solamente quando sarà verificata anche questa condizione quando questo segno dei tempi sarà adempiuto il vangelo deve andare in tutto il mondo prima che gesù possa ritornare quindi queste sono le due caratteristiche fondamentali è un messaggio che deve andare numero uno in tutto il mondo e quale è il risultato quando andrà tutto il mondo numero due allora verrà la fine c'è solo un messaggio in tutta la scrittura che ha queste due stesse peculiarità e siccome gesù disse che questo evangelo deve andare in tutto il mondo prima del ritorno di gesù e poco prima del ritorno di gesù non ci deve sorprendere il fatto che questo messaggio che ha le stesse due peculiarità che troviamo in mattia 24 14 lo troviamo nel libro dell'apocalisse è evidente se un messaggio che deve andare in tutto il mondo prima del ritorno di gesù è un messaggio che sarà predicato negli ultimi tempi e quindi non ci sorprende che questo stesso messaggio chiamato da gesù questo evangelo del regno lo troviamo nel libro dell'apocalisse questo è l'ultimo messaggio di salvezza e di avvertimento per il mondo e lo troviamo in apocalisse al capitolo 14 leggeremo insieme l'introduzione a questo messaggio e noteremo queste due peculiarità evidenziate in matteo 24 14 ritroveremo queste due caratteristiche in apocalisse capitolo 14 andiamo insieme a leggere il versetto 6 apocalisse 14 versetto 6 poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione tribù lingua e popolo giovanni vide in visione questo angelo che volava in mezzo al cielo e definiremo nella prossima presentazione che cosa rappresenta questo angelo però posso preannunciarvi ancora prima di dimostrarvelo che è una rappresentazione del popolo di dio degli ultimi tempi quindi questo messaggio è definito l'evangelo eterno e il testo dice che deve essere annunciato agli abitanti della terra e ad ogni nazione tribù lingua e popolo quindi numero uno come abbiamo visto in matteo 24 14 anche questo messaggio chiamato evangelo eterno di apocalisse 14 deve essere predicato in tutto il mondo il messaggio di apocalisse 14 è un triplice messaggio viene chiamato anche il messaggio dei tre angeli perché giovanni vide tre angeli volare in mezzo al cielo uno dietro all'altro con un triplice messaggio e apocalisse 14 i versetti dal 6 al 12 presenta proprio questo triplice messaggio dopo il messaggio troviamo un versetto che funge da parentesi che è il versetto 13 e andiamo a vedere qual è l'effetto qual è il risultato di questo messaggio nel mondo in altre parole quando questo evangelo eterno il messaggio dei tre angeli sarà predicato in tutto il mondo vediamo che cosa succederà apocalisse capitolo 14 versetto 14 poi vidi ed ecco una nuvola bianca e sulla nuvola stava seduto uno simile al figlio d'uomo il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola metti mano alla tua falce e nieti poiché l'ora di nietere è venuta perché la messe della terra è matura allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu nietuta notiamo quindi che subito dopo la predicazione del messaggio dei tre angeli che cosa succede giovanni vide il ritorno di gesù una scena simbolica abbiamo uno simile al figlio d'uomo su una nuvola questo è chiaramente gesù che nei vangeli ha attribuito a se stesso questo titolo il figlio dell'uomo e gesù qui aveva una falce in mano e una falce serve per mietere infatti c'è una voce che dice a gesù di gettare la falce sulla terra e di mietere doveva mettere mano alla falce e mietere la terra perché perché la messa della terra era venuta e così gesù lanciò la falce sulla terra e la terra fu nietuta non dobbiamo scommettere sul significato di questa scena simbolica perché gesù stesso raccontò una parabola in matteo capitolo 13 la parabola della zizzagna nella quale rappresentò i figli del regno con il buon grano e i figli del maligno o del diavolo con la zizzagna che è un'erbaccia e in matteo 13 al versetto 39 gesù diede la spiegazione dei simboli di questa parabola dicendo che la mietitura rappresenta la fine del mondo quindi gesù stesso ci spiega qual è il significato della mietitura in quella parabola e anche in questo passaggio la mietitura ha lo stesso significato rappresenta la fine del mondo quindi guardiamo che cosa abbiamo appena scoperto in apocalisse 14 semplicemente dalla cronologia del capitolo al versetto 6 abbiamo visto che il messaggio dei tre angeli chiamato evangelo eterno deve andare in tutto il mondo che cosa succederà quando questo messaggio sarà predicato in tutto il mondo beh la struttura di apocalisse 14 ce lo dice perché il messaggio è annunciato nei versetti dal 6 al 12 e poi dai versetti 14 fino al 16 troviamo una scena simbolica del ritorno di gesù in altre parole quando l'evangelo eterno sarà predicato in tutto il mondo allora gesù ritornerà perciò questo combaccio con quello che gesù aveva detto in matteo 24 14 scopriamo quindi paragonando matteo 24 con apocalisse 14 che questo evangelo del regno del quale gesù aveva parlato nel suo sermone profetico rappresenta proprio il massaggio dell'evangelo eterno il messaggio dei tre angeli di apocalisse 14 questo messaggio è l'unico messaggio che deve andare in tutto il mondo e che porterà alla fine del mondo come risultato della sua predicazione da parte del popolo di dio alla fine dei tempi il messaggio dei tre angeli è l'unico messaggio che se predicato in tutto il mondo porterà alla fine del mondo nessun altro messaggio predicato può portare alla fine del mondo in altre parole le chiese che hanno un vangelo ma che non ha tutte le caratteristiche che analizzeremo poi nelle prossime puntate non ha tutte le caratteristiche dell'evangelo eterno ha un messaggio che non può portare alla fine del mondo anche se fosse predicato in tutta la terra ogni persona sarà giudicata in base alla luce ricevuta e le chiese che predicano il messaggio che hanno compreso sicuramente predicano un vangelo che ha molti punti in contatto con l'evangelo eterno che è sovrapponibile almeno in parte all'evangelo eterno ma a volte il messaggio di queste chiese è incompleto ci sono degli elementi dell'evangelo eterno che non predicano certamente dio utilizza ogni sincero credente che predica il messaggio che ha compreso per la salvezza di altri in cielo ci saranno moltissimo moltissime persone moltitudini e folle di persone che saranno state convertite dal messaggio di chiese che avevano compreso un vangelo che però non era l'intero evangelo eterno e quindi in cielo troverete persone lì a motivo della predicazione di evangelici pentecostali battisti metodisti presbiteriani e così via gloria a dio se queste chiese predicano l'evangelo che hanno compreso dio le usa se sono sinceri nella loro predicazione e ogni persona sarà giudicata in base alla luce ricevuta anche se non ha compreso alcune cose ma ha seguito con sincerità tutta la luce ricevuta sarà salvata però prima del ritorno di gesù il messaggio dei tre angeli dovrà essere proclamato in tutto il mondo dal popolo di dio della fine dei tempi solamente questo messaggio porterà al ritorno di gesù deve essere predicato nella sua interezza nella sua completezza per cui indipendentemente da quello che le altre chiese fanno con il loro evangelo il vero popolo di dio degli ultimi tempi che è chiamato anche chiesa del rimanente le cui caratteristiche troverete in apocalisse 12 17 e all'interno del messaggio stesso dei tre angeli in apocalisse 14 12 questo movimento deve andare indipendentemente da quello che fanno le altre chiese deve andare in tutto il mondo con questo messaggio l'evangelo eterno del messaggio dei tre angeli deve andare in tutto il mondo a predicare questo messaggio perché soltanto questa predicazione porterà alla fine del mondo e quindi dio ha suscitato questo movimento la chiesa del rimanente negli ultimi tempi nel tempo della fine per portare al mondo intero questo messaggio e dio userà il messaggio dei tre angeli come un test per tutti gli abitanti della terra che verranno messi tutti quanti alla prova come scritto in apocalisse al capitolo 3 e al versetto 10 e come vedremo in una delle prossime puntate dio ha scelto un test calcolato perfetto adatto per mettere alla prova tutti gli abitanti della terra indipendentemente dalla loro cultura di provenienza dalla loro religione dal loro background dio ha calcolato un test che è valido e sarà adatto per mettere alla prova tutto il mondo nella crisi finale che sta per abbattersi su questa razza sulla razza umana nell'ultima generazione che precederà il ritorno di gesù la predicazione del messaggio dei tre angeli andrà in tutto il mondo e accettare o rifiutare questo messaggio nell'ultima generazione sarà motivo di vita eterna o di morte eterna se abbiamo detto in precedenza che ogni persona è giudicata in base alla luce ricevuta e se anche non ha compreso tutto della verità se però è stata fedele alla parte che ha compreso sarà salvata nell'ultima generazione non ci sarà più differenza di conoscenza tra le persone perché tutto il mondo sarà illuminato dalla luce della verità contenuta nell'evangelo eterno in questo triplice messaggio come scritto in apocalisse 18 1 tutta la terra sarà illuminata dalla gloria di dio questo messaggio andrà in tutto il mondo e sarà un test per tutti gli abitanti della terra e quindi sì nell'ultima generazione rifiutare questo messaggio o una parte di questo messaggio sarà motivo di morte eterna di perdizione capite bene che questo messaggio essenziale un messaggio importante un messaggio urgente è un messaggio che deve essere compreso dal popolo di dio degli ultimi tempi ed è nostro piacere e nostro privilegio nostro scopo in questa serie di presentazioni di esplorare questo messaggio affinché possiamo unire la nostra voce nel proclamare l'evangelo eterno non solo parzialmente ma in tutta la sua interezza quali saranno quindi gli effetti della predicazione del messaggio dei tre angeli abbiamo detto che porterà alla fine del mondo ma nell'ultima generazione la società sarà polarizzata in due categorie a motivo della predicazione di questo messaggio abbiamo letto ai versetti 15 e 16 di apocalisse 14 che la messe della terra sarà matura e gesù rappresenta qui con la messe della terra il buon grano i salvati dell'ultima generazione quelli che nella parabola delle zizzagne erano anche rappresentati dal buon grano che viene raccolto e riposto nei granai celesti questi sono e questa è l'ultima generazione di credenti sulla faccia della terra nella parabola della zizzagna gesù aveva detto che di lasciar crescere il grano e la zizzagna insieme fino al tempo della mietitura ma al tempo della mietitura il grano è maturo quindi gesù insegnò che grano e zizzagna sarebbero arrivati entrambi a maturazione fino al tempo della mietitura in altre parole l'ultima generazione di credenti sarà una generazione che arriverà a maturazione nel bene questo gesù lo ha insegnato sia nella parabola della zizzagna e lo troviamo insegnato anche qui in apocalisse 14 però vediamo che abbiamo detto che questo messaggio polarizzerà la società in due guardiamo che c'è un'altra maturazione un altro raccolto nei versetti successivi apocalisse 14 i versetti dal 17 in poi il testo dice così poi un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo avendo anch'egli una falce tagliente e un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente dicendo metti mano alla tua falce tagliente e vendemmi ai grappoli della vigna della terra poiché le sue uve sono mature allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmi alla vigna della terra e gettò l'uva nel grantino dell'ira di dio vediamo che c'è l'uva che giunge a maturazione da una parte il buon grano giunge a maturazione rappresenta l'ultima generazione di fedeli di salvati coloro che vivranno la crisi finale e che vedranno gesù senza passare per la morte quelli che sono i 144.000 di apocalisse 7 e 14 parleremo anche di loro in una prossima puntata e dall'altra parte le uve sono mature ma vedete che fine fanno sono schiacciate nel grantino dell'ira di dio e quindi l'uva matura rappresenta quello che gesù aveva rappresentato con la zizzagna nella sua parabola sono i figli del diavolo i figli del maligno l'ultima generazione di malvagi quelli che saranno vivi al ritorno di gesù quindi notate che abbiamo una maturazione sia nel bene sia nel male ci sarà un'estrema polarizzazione nella società che sarà divisa proprio a motivo di questo messaggio sarà un messaggio che spaccherà il mondo in due e sia i figli di dio da una parte che i figli del diavolo dall'altra giungeranno a maturazione ci sarà uno sviluppo nel carattere tanto nel bene per l'azione dello spirito di dio che si riverserà con potenza sui figli di dio tanto nel male perché i figli del diavolo si induriranno e si resisteranno a questo messaggio predicato nella potenza dello spirito santo e come la differenza tra il grano e la zizzagna è evidente a al tempo della mietitura così come è scritto in malachia capitolo 3 nell'ultima generazione sarà evidente la differenza tra i giusti e gli ingiusti tra coloro che temono dio e coloro che si sono ribellati a lui quindi nell'ultima generazione sia la pietà da una parte che l'impietà dall'altra raggiungeranno la loro maturazione il popolo di dio crescerà per usare le parole dell'apostolo paolo nefesini 4 a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di cristo mentre dei nemici di dio è scritto sempre dall'apostolo paolo in seconda timotio 3 ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti è interessante perché questo passaggio di seconda timotio 3 inizia con la descrizione della società degli ultimi tempi quindi è inserito in un brano che parla degli ultimi tempi e paolo dice che i malvagi andranno di male in peggio cioè ci sarà una crescita anche nel male e anche questo elemento lo ritroviamo nel sermone profetico di gesù quando gesù disse che l'iniquità si sarebbe moltiplicata e l'amore di molti si sarebbe raffreddato credo che lo stiamo vedendo già nella società intorno a noi ma questo si intensificherà sempre di più all'avvicinarsi del ritorno di gesù andiamo in seconda pietro al capitolo 3 e leggeremo i versetti da 11 a 12 seconda pietro capitolo 3 versetti 11 e 12 e troviamo un'idea molto interessante l'apostolo scrisse così poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte parlando della terra delle opere umane distrutte al ritorno di gesù intende come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di dio a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli alimenti consumati dal calore si fonderanno l'idea interessante che troviamo qui pietro scrisse che il popolo di dio degli ultimi tempi può non solo aspettare il ritorno di gesù ma può anche affrettarlo com'è che il popolo di dio può affrettare il tempo del ritorno di gesù lo abbiamo letto in matteo 24 14 quando questo evangelo del regno e abbiamo visto che è il messaggio dei tre angeli l'evangelo eterno sarà predicato in tutto il mondo allora verrà la fine ma fino a che questo mandato non sarà adempiuto dalla chiesa di dio gesù non potrà ritornare quindi la chiesa ha una parte da giocare per adempire questo segno dei tempi certo lo deve fare nella potenza dello spirito santo certo è dio che opera attraverso i suoi figli ma se la chiesa è negligente nell'adempire il grande mandato affidatole dal signore gesù allora questo potrà ritardare il ritorno di gesù e infatti connettendo proprio questi due brani matteo 24 14 e quello che abbiamo appena letto in seconda pietro 3 ellen white scrisse nel libro la speranza dell'uomo in un capitolo che commenta proprio il sermone profetico di gesù facendo conoscere il messaggio del vangelo al mondo noi possiamo affrettare il ritorno del signore non dobbiamo solo attendere ma dobbiamo affrettare la venuta del giorno di dio se la chiesa del cristo avesse svolto fedelmente il compito che il signore le aveva assegnato il mondo sarebbe già stato avvertito e il signore gesù sarebbe tornato con potenza e gran gloria gesù sarebbe già potuto ritornare di solito nel giorno del matrimonio sono le spose che si fanno attendere e nel caso del mio matrimonio non c'è stata eccezione ho dovuto attendere circa una mezz'ora rispetto all'orario programmato l'arrivo di mia moglie ma ne è valsa la pena e nel grande piano della salvezza anche qui non abbiamo un'eccezione perché molti pensano che la chiesa sta aspettando il ritorno di gesù noi credenti degli ultimi tempi siamo attendendo il ritorno di gesù in gloria come se la sposa che è la chiesa stia aspettando l'arrivo dello sposo ma vi voglio dire che nemmeno nel piano della salvezza c'è eccezione perché è la sposa che si sta facendo attendere è la chiesa che si sta facendo attendere è lo sposo gesù cristo che sta aspettando che la chiesa prenda sul serio il mandato che lui le ha affidato e proclami l'evangelo eterno in tutto il mondo è il nostro potere affrettare il giorno del ritorno di gesù ma purtroppo possiamo anche ritardarlo con la nostra negligenza attenzione bene a quello che non sto dicendo non sto dicendo che gesù non ritornerà mai perché dio avrà una generazione fedele che adempirà questo mandato e dio ha pianificato il piano della salvezza ha concepito l'intero piano della salvezza e dio ha stabilito che gesù sarebbe venuto una prima volta sulla terra sarebbe morto per i nostri peccati e sarebbe ritornato in gloria una seconda volta questo è stabilito da dio è un fatto che nessun uomo potrà cambiare o evitare gesù ritornerà per certo quello che sto dicendo è che la chiesa ha qualcosa da dire sul tempo del ritorno di gesù la chiesa può influenzare il giorno del ritorno di gesù gesù sarebbe già potuto ritornare quindi questo ritardo non dipende da gesù ma dipende dalla sposa che non ha addempiuto fedelmente il suo mandato come era sua possibilità fare dio ha stabilito il tempo del ritorno di gesù a grandi linee vi ricordate che gesù disse agli apostoli prima dell'ascensione che non stava a loro conoscere i tempi e le stagioni del ritorno di gesù questo è qualcosa stabilito da dio quindi dio ha stabilito che il tempo della fine sarebbe iniziato nel 1798 questo lo si deduce dal libro di daniele e ora non abbiamo il tempo di provare questo punto e l'ultima grande profezia delle scritture la più lunga profezia temporale della bibbia contenuta in daniele 8 14 è scaduta nell'anno 1844 cioè già nel tempo della fine ma dal 1844 in poi le altre profezie che si dovevano adempiere non si adempiranno in base a una data in altre parole non ci sono più profezie temporali dopo la data del 1844 non esistono più date sul grande calendario profetico di dio dopo il 1844 ma le profezie che si devono realizzare dopo il 1844 e ne abbiamo diverse nel libro dell'apocalisse si adempiranno all'adempiersi di una condizione e il ritorno di gesù non fa eccezione gesù ritornerà quando una condizione precisa sarà adempiuta e l'abbiamo già letto l'evangelo eterno deve essere predicato in tutto il mondo fino a che questa condizione non sarà adempiuta gesù non potrà ritornare in gloria quindi è la chiesa che sta trattenendo gesù in cielo dio non ha fissato una data sul suo grande calendario per il ritorno di gesù torniamo in apocalisse 14 e andiamo a rileggere versetti 15 e 16 il testo dice così un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola metti mano alla tua falce e mieti poiché l'ora di mietere è venuta perché la messe della terra è matura allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta abbiamo visto che la mietitura rappresenta la fine del mondo ma perché gesù può mietere la terra la condizione che si è verificata la rileggiamo a versetto 15 metti mano alla tua falce mieti poiché l'ora di mietere è venuta come mai perché la messe della terra è matura è la maturazione che determina quando è il tempo della mietitura in altre parole un contadino potrebbe anche mettere una crocetta sul suo calendario per l'anno successivo e dire io mieterò in questa data ma a nulla servirebbe perché se è vero che la mietitura avviene sempre nello stesso periodo è vero che di anno in anno la data precisa può variare a seconda delle condizioni climatiche di quella stagione perciò dio non ha messo una crocetta sul suo grande calendario celeste per il ritorno di gesù non c'è una data fissa che deve essere per forza quella ed è per questo motivo che dio ha deciso di rappresentare il tempo della venuta di gesù con la mietitura del grano proprio perché non c'è una data fissa per la mietitura del grano è vero come abbiamo detto prima che dio ha stabilito i tempi e le stagioni dio stabilito quale sarebbe stato il tempo del ritorno di gesù a grandi linee quindi da dopo la metà dell'ottocento in poi ogni generazione ha avuto una possibilità di completare l'opera di dio sulla terra ma questa è la condizione che si doveva adempire il messaggio predicato il messaggio dell'evangelo eterno il messaggio dei tre angeli predicato in tutto il mondo è come vedremo un messaggio che è stato compreso nella sua interezza solamente proprio nel tempo della fine da parte del popolo di dio per cui dio ha stabilito a grandi linee sia il tempo della mietitura del grano qui in italia è tra la fine di giugno la seconda metà di giugno o inizio luglio e dio ha stabilito questo che il tempo della mietitura del grano ma di anno in anno all'interno di questo periodo il giorno preciso può variare e così all'interno di questo periodo stabilito da dio per il ritorno di gesù la data del ritorno di gesù poteva variare poteva essere prima il mondo poteva già essere finito l'opera di dio poteva già essere terminata e quindi dal 1844 in poi non c'è più una profezia temporale cioè che ha una data per la sua scadenza ogni generazione dalla metà dell'ottocento in poi ha avuto l'opportunità di portare a termine l'opera di dio e troviamo questo pensiero nel libro il gran conflitto che parla proprio delle grandi profezie di daniele e dell'apocalisse della crisi finale del che il pianeta terra vivrà e dice questo brano se tutti coloro che avevano lavorato uniti nel 1844 sta parlando del movimento millerita che poi è diventato il movimento avventista quindi se tutti coloro che avevano lavorato uniti nel 1844 avessero accettato il messaggio del terzo angelo e vedremo in particolare che cos'è nelle prossime puntate e l'avessero proclamato con la potenza dello spirito di dio il signore si sarebbe unito a loro per agire con potenza un fascio di luce si sarebbe diffuso in tutto il mondo e gli abitanti della terra sarebbero stati avvertiti da anni e lei scrive queste parole ancora nell'ottocento l'opera sarebbe stata compiuta e il Cristo sarebbe già tornato per la redenzione del suo popolo Gesù sarebbe già voluto ritornare su questa terra Gesù non sta aspettando altri terremoti altre guerre altre pandemie altra malvagità che venga sul mondo altri disastri che si abbattano sulla terra per mettere fine al male Gesù avrebbe già voluto mettere fine al male Gesù sarebbe già voluto ritornare avrebbe desiderato già riversare la potenza del suo spirito sulla sua chiesa perché potesse portare a termine la sua opera su questa terra proclamando l'evangelo eterno in tutto il mondo se questo non è ancora avvenuto non è perché Gesù non lo ha voluto ma è per mancanza nel suo popolo come il popolo di israele per la sua infedeltà e la sua disubbidienza ritardò di 40 anni l'ingresso nella cana terrestre così il popolo di dio degli ultimi tempi sta ritardando il suo ingresso nella cana celeste Gesù non sta aspettando altro male che si deve abbattere sul mondo il ritorno di Gesù si è vicino è alle porte possiamo sapere che stiamo decisamente vivendo nei tempi finali della storia umana ma quanto è vicino il giorno di Gesù non dipende dai piani di satana e dalle mosse dei nemici del popolo di dio che sono descritti dalle due bestie di apocalisse 13 non dipende dalle mosse dell'anticristo quanto è lontano o vicino il ritorno di Gesù dipende da quello che il popolo di dio fa sulla terra dipende da quanto sul serio prende il mandato ricevuto da Gesù proclamare l'evangelo eterno in tutto il mondo è la chiesa che fa il tempo del ritorno di Gesù non satana non i nemici del popolo di dio Gesù quindi non sta aspettando di vedere altre guerre altri disastri naturali i segni dei tempi si sono già adempiuti a sufficienza per capire che siamo negli ultimi tempi Gesù ha già visto abbastanza male ne ha già visto a sufficienza e vorrebbe tanto mettere fine alla storia umana e al male che regna sulla terra Gesù sta aspettando la chiesa Gesù non ha messo una crocetta sul suo calendario per indicare un giorno nel quale dovrà tornare per forza certo che dio conosce in anticipo quale sarà alla fine la data del ritorno di Gesù dio la sa già ma quello che voglio dire è che Gesù sarebbe potuto tornare prima e tanto male sarebbe potuto essere evitato se la chiesa avesse portato già a termine il suo mandato voglio riflettere ancora qualche momento su questo brano che abbiamo letto la messe è matura la fine del mondo la mietitura della terra perché la messe è diventata matura abbiamo detto che la mietitura e il giorno della mietitura è determinato dalla maturazione del grano ma vogliamo chiederci qual è la caratteristica di un chicco di grano maturo il chicco di grano maturo è identico al chicco di grano che è stato piantato la stagione precedente per generare la pianta che poi ha prodotto quel chicco maturo mi avete seguito l'agricoltore miete prende dei chicchi alcuni li preserva perché siano la semente per l'anno successivo ma quelli che vengono seminati in terra sono chicchi maturi che daranno vita a una nuova pianta che produrrà una spiga con molti altri chicchi che arriveranno a loro volta a maturazione quindi quando il chicco è maturo il chicco è maturo quando è uguale al chicco di grano che è stato seminato per generarlo andiamo a vedere quindi che cosa rappresenta il granello di frumento nel nuovo testamento andiamo in giovanni al capitolo 12 il versetto 24 queste sono parole di gesù pronunciate nel nell'ultima settimana di vita qualche giorno prima della croce giovanni 12 24 gesù disse in verità in verità vi dico se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto gesù stava parlando della sua morte in croce gesù stava parlando della necessità della sua morte per produrre frutto i redenti se gesù avesse rifiutato di andare fino alla croce sarebbe rimasto solo dice il testo ma gesù rappresentò se stesso qui con il granello di frumento che caduto in terra deve anche morire se fosse solo caduto in terra cioè solo sceso in terra dal cielo avesse anche vissuto una vita perfetta ma senza morire sarebbe rimasto solo quindi gesù il chicco di grano caduto in terra doveva anche morire per dare a noi la possibilità di essere salvati quindi gesù è il granello di frumento il chicco di grano che è piantato nel cuore del credente per inciso anche la parola di dio viene rappresentata con con la buona semente col buon seme che il seminatore sparge in quella parabola il seminatore primariamente è gesù che predica la parola e quindi questo seme che è gesù stesso che è chiamato anche la parola in giovanni capitolo 1 viene piantato nel cuore del credente ma abbiamo visto che nell'ultima generazione la messa della terra sarà matura e quando è che il chicco di grano è maturo quando è uguale al chicco di grano che è stato piantato nella stagione precedente quindi se gesù è il granello di frumento il chicco di grano piantato nel cuore del credente che cosa rappresenterà mai la maturazione della messa nell'ultima generazione rappresenta il fatto che il popolo di dio rifletterà il carattere di gesù che il popolo di dio vivrà un'esperienza tale di vicinanza di intimità con il suo signore salvatore gesù che arriverà a riprodurne il carattere c'è un pensiero nel libro parole di vita in un capitolo che commenta la parabola del seme di marco capitolo 4 e dice così cristo attende e brama di vedere la sua immagine riflessa nella sua chiesa questo il desiderio di gesù quando il popolo di dio scusate quando il popolo di cristo rifletterà perfettamente il suo carattere egli verrà a reclamarlo come sua proprietà sta parlando del suo ritorno è privilegio di ogni cristiano non solo di attendere ma anche di affrettare il ritorno del nostro signore gesù cristo è interessante come in questo brano troviamo accostate queste due queste due condizioni da una parte il popolo di dio che riflette il carattere di gesù e dall'altra il popolo di dio che deve affrettare il giorno del ritorno di gesù proclamando l'evangelo sono accostate in un unico brano queste due condizioni nella parabola del seme di marco capitolo 4 versetti 28 e 29 gesù parlò dello stelo che si forma e poi dell'erba che cresce e della della spiga che si forma e poi del chicco che si forma all'interno della spiga fino a diventare un chicco maturo con questa parabola gesù desiderava illustrare il processo di crescita nella vita cristiana lo sviluppo del carattere che viene trasformato sempre di più a immagine di gesù fino a che il chicco raggiunge la maturazione ovvero il credente arriva a riflettere pienamente il carattere di gesù questa è opera dello spirito santo nel cuore questa è opera della grazia di dio non è certo merito umano come la pianta cresce attraverso un processo così anche il carattere cristiano nella vita del credente cresce tramite un processo che è innescato ma anche portato avanti dallo spirito di dio e dalla sua potenza e le white commenta proprio su questa immagine nel libro testimonies to ministers e dice la maturazione del grano rappresenta il completamento dell'opera di grazia della grazia di dio nell'animo tramite la potenza dello spirito santo l'immagine morale di dio deve essere perfezionata nel carattere dobbiamo essere completamente trasformati a somiglianza di cristo questo è l'obiettivo posto davanti al credente usando le parole che ho citato in precedenza dell'apostolo paolo in efesini 4 dobbiamo crescere fino alla statura della pienezza di cristo è nelle nostre possibilità perché perché la grazia di dio ha questo potere al potere di prendere un peccatore di trasformarlo completamente a immagine di gesù questa è la potenza della grazia di dio forse ti chiederai abbiamo detto nella prima parte di questa presentazione che la condizione che si deve verificare perché gesù possa ritornare è che il popolo di dio deve predicare l'evangelo eterno il messaggio dei tre angeli in tutto il mondo ma ora stiamo leggendo da apocalisse 14 che la condizione perché la terra possa essere mietuta è la maturazione della sua messe del grano e allora potreste chiedervi qual è qual è delle due la condizione è l'evangelo eterno che deve essere predicato in tutto il mondo oppure è il popolo di dio che deve riflettere il carattere di gesù beh voglio dirti che queste due condizioni in realtà rappresentano un'unica grande condizione queste due condizioni sono legate tra di loro infatti non si può essere completamente trasformati e immagini di gesù se non si è anche impegnati nell'opera della proclamazione del messaggio dei tre angeli se non siamo impegnati nella nostra vita a voler portare delle anime a cristo come potremmo riflettere il carattere di cristo gesù definì lo scopo della sua prima venuta in luca 19 10 e disse perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto questo era lo scopo della venuta di gesù gesù era impegnato in quest'opera e ogni suo vero discepolo sarà impegnato nella stessa opera cercare e salvare coloro che sono perduti dio avrebbe potuto chiamare angeli a portare avanti la sua opera a proclamare l'evangelo e invece no ha scelto peccatori come me e come te uomini e donne simili alle persone che essi vogliono raggiungere per cristo perché essendo impegnati in quest'opera noi stessi siamo trasformati a immagini di gesù nell'essere benedizione per qualcun altro noi stessi siamo benedetti e veniamo trasformati quindi l'evangelo eterno deve essere predicato in tutta la terra prima del ritorno di gesù anzi questa predicazione in tutto il mondo porterà proprio al ritorno di gesù ma quel popolo che sarà impegnato in quest'opera vedrà anche il suo carattere progressivamente essere trasformato sempre di più a immagini di gesù vuoi essere trasformato a immagini di gesù lo sarai quando sarai impegnato a portare avanti la sua opera a cercare di portare anime a cristo a proclamare questo messaggio che forse magari conosci solo in parte non in tutte le sue parti ma se seguirai questa serie di presentazioni lo esploreremo nel dettaglio in modo che tu possa proclamare nella sua interezza l'evangelo eterno gesù disse che questo evangelo del regno l'evangelo eterno deve essere proclamato in testimonianza a tutte le genti deve essere proclamato in testimonianza un testimone è qualcuno che ha visto che ha udito in prima persona e come chiesa potremo anche investire tutti i nostri soldi per esempio in tv in radio in satelliti in internet in stampati e queste cose sono ottime e vanno fatte voi stessi state guardando questo messaggio su internet e noi siamo un ministero che usa i media però il mondo ha bisogno di vedere questo messaggio come una testimonianza ha bisogno di non solo di ascoltarlo dalla bocca del popolo di dio ha bisogno di vederlo vissuto nella vita del popolo di dio non basterebbe investire tutti i soldi in questi mezzi se il popolo di dio non incarnasse anche questo messaggio nella sua vita gesù ritornerà quando questo popolo avrà una testimonianza credibile proclamerà questo messaggio sì con le sue parole ma anche col suo carattere il messaggio dei tre angeli è un messaggio che deve essere predicato e vissuto dal popolo di dio è un messaggio che dobbiamo sperimentare nella nostra vita per poterlo proclamare con coerenza e con potenza la gente ha bisogno non solo di ascoltare l'evangelo eterno ma di vedere l'evangelo eterno nella vita di chi lo proclama perché solo così potrà rendersi conto della potenza della grazia di dio in grado di trasformare la vita di un peccatore e quando questo messaggio sarà sia proclamato e vissuto dal popolo di dio che quindi rifletterà il carattere di gesù allora e solo allora gesù potrà ritornare sulla terra il messaggio del primo angelo che inizieremo a esaminare nel prossimo incontro è una chiamata a temere dio e a glorificarlo nella propria vita è una chiamata ad adorare dio perché viviamo già nell'ora del giudizio di dio e il messaggio del terzo angelo invece invita il popolo di dio a essere fedele a dio a qualunque costo anche a costo della morte se questo è il messaggio che deve essere ascoltato dal mondo negli ultimi tempi vuol dire che la società degli ultimi tempi è una società che non ha il timore di dio se il popolo di dio invita il mondo a temere dio vuol dire che la società ha perso il timore di dio se il popolo di dio invita a glorificare dio vuol dire che la maggior parte del mondo vive per glorificare se stesso e vive nel timore degli uomini non nel timore di dio se questo messaggio invita il mondo ad adorare dio è perché la maggior parte del mondo si è dimenticata di dio se in vita a porre attenzione al fatto che viviamo nel tempo del giudizio di dio è perché il mondo si è dimenticato che deve rendere conto della propria vita al dio che ci ha dato la vita e se questo messaggio chiama alla fedeltà a dio prima di ogni altra cosa vuol dire che la maggior parte del mondo vive in ribellione rispetto ai principi della parola di dio il mondo ha bisogno di vedere questo messaggio non solo di ascoltarlo ma dicevo anche di vedere di vedere un popolo che vive con il timore di dio ha bisogno di vedere che chi glorifica dio lo fa con una vita che dà gloria a dio ma è anche nel contempo felice ha bisogno di vedere persone che adorano dio e che sperimentano il riposo che dio vuole offrire loro e ha bisogno di vedere persone che sono fedeli ai principi a qualunque costo fedeli alla legge di dio anche se questo dovesse significare andare contro tutto il mondo anche a rischio di perdere ogni cosa perfino la vita stessa il mondo ha bisogno di vedere persone che come gesù sono in grado di amare i loro nemici quelli che si scagliano contro di loro che li prendono in giro e che si oppongono al loro messaggio sì il mondo ha bisogno di vedere questo possa vederlo nella mia vita e nella tua vita preghiamo insieme caro padre grazie per questo messaggio potente che ci hai voluto lasciare grazie perché possiamo vedere quali sono le caratteristiche di questo ultimo messaggio nello studio del messaggio dei tre angeli e fa di noi dei messaggeri fedeli che possiamo proclamare questo messaggio nella sua interezza e che possiamo fare di quest'opera la tua opera la nostra priorità affinché presto possiamo vedere gesù ritornare sulle nuvole del cielo in grande gloria per portarci a casa ti abbiamo questo chiesto queste cose nel nome prezioso di gesù cristo amè a